Oggi risponderemo alle vostre domande. Ciao a tutti, io sono Aldo Masolo, sono un bodybuilder professionista e siete sulla mia pagina YouTube. Lei è? Mia figlia, cioè sono io. Io sono il figlio e lei è il padre ovviamente. Dopo. Allora adesso noi abbiamo scelto un numero giusto di domande, circa una ventina, perché le domande che ci avete fatte erano davvero tantissime. Ne abbiamo scelti una ventina e risponderemo appunto a queste venti domande, sperando un pochettino di rispondere un po' a tutti voi. A tutti voi. Vai, partiamo. Partiamo dalla prima domanda. Vai. Un eccesso di allenamento può far perdere prestazioni durante le gare sportive? Allora, a mio avviso sì. Nel senso che in linea generale, se uno fa degli sport dove c'è bisogno di parecchio allenamento precedente, deve riposarsi i giorni prima della gara, per non incorrere il rapporto in una situazione in cui non possa dare il 100% e dura anche la gara stessa. Per cui il mio consiglio è, legato alla gara di bodybuilding, assolutamente gli ultimi due giorni, deve assolutamente smettere di allenarsi completamente e addirittura le gambe, io capita molte volte che smetta di allenarle una settimana prima, per far sì ovviamente che l'acqua extracellulare che si trova nel quadricipito, comunque nelle gambe in generale, venga persa dovuta appunto all'allenamento costante che uno compie settimanalmente e quotidianamente. Di conseguenza, sì assolutamente, dovete fare un piccolo stacco prima di competere. Tua figlia da quanti anni si allena? È rivolta a te questa. Io mi alleno circa dal 2021 in modo fisso, prima durante tipo la quarantena facevo delle cose in casa, perché avevamo fatto la palestra in casa, quindi si faceva qualcosina e diciamo che mi sono appassionata la palestra, principalmente dopo la quarantena, esatto, e dopo da lì io vado abitudinalmente in palestra. Concio ci vai tre volte a settimana? Sì perché faccio anche kickboxing, quindi comunque sono impegnata già due volte alla settimana con kickboxing e il resto dei giorni lo alterno con la palestra. Esattamente. Quante proteine per chilo suggerisci, suggerite in varie fasi se dovessero variare? Allora, in linea generale io considero corretto un quantitativo di un grammo e mezzo, un grammo e otto per chilo colporeo in una fase diciamo normocalorica. Poi ovviamente in una fase ipercalorica, quindi quando uno si trova in massa secondo me sarebbe corretto addirittura abbassarle ancora un pochettino, quindi andare sul grammo e mezzo. Poi invece, quando invece una persona si trova in una fase ipocalorica, quindi quando uno vuole tra virgolette definirsi, a mio avviso il quantitativo proteico deve essere aumentato perché ovviamente viene calato invece il quantitativo di grassi e carboidrati, per cui potrebbe anche essere due grammi, due grammi due per chilo colporeo. Quindi diciamo, queste più o meno sono, a mio avviso, i quantitativi corretti da usare nelle varie fasi e nelle varie tipologie appunto di, diciamo, della quotidianità di una fase normocalorica, una fase ipocalorica e una fase ipercalorica. Questa è appunto come è nata la mia passione per la palestra, siete interessati alle arte marziali, lui faceva keyboxing. Io facevo full contact da ragazzo, quando praticamente avevo la sua età e ho durato fino ai 22 anni, più o meno, 21-22 anni. e successivamente mi sono dedicata ai pesi. Lei ha intrapreso senza neanche... No, senza a caso, totalmente a caso. ...la stessa cosa, quindi ha iniziato anche lei le arti marziali. Sì, da circa 4 anni. Sì, ecco, le arti marziali ancora prima, sì. Con un ragazzo che è il suo istruttore, che era un mio amico, che si allenava con me ai tempi, quindi un ciclo che si chiude. Esatto. E dopo ha unito alla palestra, quindi tra virgolette abbiamo fatto lo stesso iter per adesso all'inizio. Hai ragione. Che tatuaggi vi siete fatti? Ecco, ora è anche guarito, dovremmo aggiungersi il punto interrogativo. Il punto interrogativo perché ce lo siamo dimenticati. Che cos'è, amore? È la nostra canzone, una bellissima canzone dei Black Eyed Peas, andatela ad ascoltare tutti e... Che è la canzone? È Where is the Love. Esatto, ed è la nostra canzone preferita. Esattamente. Che allenamento consigli per un ragazzo alle prime armi, con la palestra? Allora, io consiglio per un ragazzo alle prime armi un total body, quindi un allenamento che coinvolga tutti i distretti muscolari. Questo perché? Perché quando si ha le prime armi non si è ancora in grado di isolare correttamente i vari muscoli e di fare le esecuzioni corrette dei vari esercizi. Per cui a mio avviso vedere tutti gli esercizi di tutto il corpo assieme per me è di giovamento, soprattutto ovviamente se c'è qualcuno che ve li spiega. Perché ovviamente con un approccio del genere bastano due o tre mesi di total body per poi poter invece successivamente andare ad una scheda più focalizzata sui vari distretti muscolari e quindi un pochettino più diciamo rivolta al miglioramento dei singoli distretti in modo più approfondito. Però io direi di partire assolutamente con un total body. Questo è il mio consiglio. Poi qua ci dicono che il nostro rapporto è un esempio per tutti i genitori. Grazie. Sì, andiamo molto d'accordo come potete vedere. E ciao, come funziona il tuo coaching online? Complimenti per i contenuti utili molto interessanti. Grazie mille. Facciamo poca pubblicità al mio coaching online. Vi lascio qui sotto il link della mia pagina. Poi all'interno della pagina c'è un numero WhatsApp a cui rispondo io direttamente. Per cui dopo aver visto la pagina avete dei dubbi, iscrivetevi a WhatsApp e nel breve tempo vi rispondo alle vostre domande sperando di essere chiare e esaurienti in modo tale che non abbiate più dubbi e vi iscriviate e partiate con questa collaborazione che possa essere proficua per entrambi. Che integrazione uso? Allora, io la mattina prendo la vitamina C, l'Omega 3 e lo zinco, se non sbaglio, sempre della Vita Strong. Esatto. Colice sconto. Al 2,69. Yes. Siamo un po' collogati tutti. Bellissimo. Questa è la nuova felpa della Vita Strong, sì. E poi il pomeriggio faccio merenda con 30 grammi di proteine, però non è che abbia una grande integrazione, semplicemente prendo delle vitamine, non è che prendo la creatina. È vero, hai notato anche che comunque sia l'utilizzo della vitamina C ti aiuta. Porta molto bene per il sistema immunitario, è molto utile, sembra inutile ma alla fine... Mentre invece uno si ammala sicuramente meno se utilizza la vitamina C, soprattutto in questo... Non fa male. No, assolutamente. Come anche gli Omega 3 e quello che usi, lo zinco, sono tutti prodotti... Poi il multivitaminico te lo usi? A periodi. A periodi, sì. Sì. A periodi. Anche perché lei comunque mangia verdura e quindi mangiando verdure il multivitaminico è utile ma fino a un certo punto. Cosa ne pensa tu, la tua famiglia e del tuo stile di vita ti hanno sopportato? Allora, sì, diciamolo chiaro, è uno stile di vita un po' impeditivo. Difficile, sì, certo. Perché comunque sia, come ho sempre detto e Maria Angelica lo sa bene, tutte le attività agonistiche sono diciamo poco sane perché sono gli eccessi di qualcosa. Però loro comunque sia hanno visto la mia passione, conoscono quanta dedizione ci metto, quanto mi piace e sia Maria Angelica che mia moglie Paola l'hanno sempre capito e di conseguenza mi hanno sempre supportato. Senza ovviamente, non piacendogli ovviamente le gare di bodybuilding, quindi non sono praticamente mai venuta a vedermi perché non gli piacciono. No, ma è che andava lontanissimo. Lui è iniziato quando ero molto piccola, quindi era anche difficile spostarci. Sì, però diciamo che le gare non vi piacciono, però mi supportate che è la cosa che mi interessa. Certo. Quanto sono importanti gli integratori per post-workout? Sono sostituibili ad un pasto? Allora, secondo me sì, sono sostituibile assolutamente con un pasto. Quindi post-workout, se voi andate a casa e mangiate un pasto solido un'ora, un'ora e mezza dopo, a mio avviso non avete necessità di un post-workout. Ovviamente più si diventa, diciamo, avanzati, più ovviamente questi, diciamo, momenti, queste integrazioni possono, diciamo, essere utili. Però per il 90% delle persone, a mio avviso, mangiare le cose, tra virgolette, normali, durante i pasti, magari giustamente cadenzati durante la giornata, sono più che sufficienti. Quindi io non direi di prendere né un pre-workout, né durante l'allenamento, basta, secondo me, dell'acqua e poi successivamente, se uno appunto ha la possibilità di andare a fare un bel pasto solido, lo faccia. Ovviamente, se dopo mi dite, io sono un atleta avanzato, ho bisogno di integrare ulteriormente, allora sì, dopo ci sono ovviamente delle cose da prendere durante, pre e post-workout che possono aiutare e migliorare ancora. Però per il 90% dei ragazzi assolutamente è sufficiente per crescere quello che madre natura ci offre. Lui ti chiede invece, all'età di 17 anni, con 8 mesi di palestra, ha senso prendere la creatina? Allora, bisogna vedere te quanto sei cresciuto, nel senso, se sei cresciuto già parecchio e vuoi dare un pochettino di busta ai tuoi miglioramenti, puoi anche iniziare a prenderla. Però se vedi che comunque continui a crescere costantemente, a mio avviso può essere anche prematuro. Quindi devi valutare un attimino tu, la creatina non fa male, la creatina si può utilizzare in cronico, quindi la puoi utilizzare sempre. I quantitativi giusti sono dai 5 agli 8 grammi, in base anche al tuo peso corporeo. E, diciamo, non vedo contraddicazioni nel suo utilizzo, però ovviamente se non lo utilizzi non vuol dire che tu non cresci a lo schesso. Probabilmente ti dà un piccolo aiuto, che però sono aiuti esterni ragazzi, i muscoli si fanno allenandosi e mangiando. Quindi, se tu ti alleni in modo corretto e dal 110% nell'allenamento, cresci. Come anche se ti alimenti correttamente, perché se ti alimenti male e ti alleni bene, non cresci. Se ti alleni bene e ti alimenti male, non cresci. Quindi c'è bisogno di questi due fattori. E in più anche il riposo. Assolutamente. Il riposo è veramente molto importante, vero amore? Sì. Chiarò un albo di building per tua figlia, ambisci a competere o solo passione? No, assolutamente, non vorrei competere. Perché non ti piace? No, non critico assolutamente chi lo fa, ognuno è libero di fare ciò che crede. A me piace così, per divertimento, perché faccio le mie chiacchiere, mi diverto. Ci sta. È divertente, è un bel passatempo. Per stare in forma, perché comunque sei migliorata. Anche se, diciamolo chiaramente, noi tendiamo a crescere molto. Sì, abbiamo un muscolo che cresce molto facilmente, quindi bisogna ovviamente anche regolarsi da un certo punto di vista, ma con il tempo ovviamente si capisce anche quello. Perché ovviamente lei, c'è stato un'inverno storso che è ricresciuta parecchio, ti è rivista troppo grossa, perché comunque se i quadricipiti ti erano cresciuti tantissimo. Ma magari non allenandole neanche... Neanche tanto. Le spalle erano venute così, ha detto io non mi vedo così e quindi abbiamo rallentato con l'allenamento delle gambe, che lo fai per solo una volta nei 15 giorni. No, no, io quando non ho mai allenato le gambe, io allenavo solo i glutei, ma proporzionalmente si allenano anche le gambe, ovviamente quando alleno i glutei. Le persone che vogliono allenare i glutei non vogliono allenare le gambe, sono ipocrite, perché è normale che crescano proporzionalmente anche le gambe, è impossibile. Sai, quando si vede anche tipo un video su YouTube in cui ti dicono allenamento glutei senza ingrossare le gambe, quando si pesi si ingrossano anche le gambe. Quindi non ti è rivista tanto bene? Eh, ma perché è il mio muscolo, ma anche le braccia, la schiena... Tendiamo a crescere. Tendiamo a crescere. Come hanno reagito i miei amici sapendo che mio padre non fosse un bodybuilder? Ma da quando sono piccola, sai, tutti quanti... Ma perché... Mi conoscono. Sì, soprattutto le tue amiche. È un cucciolone, sì. Soprattutto le tue amiche, no, poi le tue amiche le conosciamo da quando sono bambine, quindi mi conoscono da sempre. Un non atleta, deve fare definizione massa o può tenere una dieta di mantenimento fissa? Direi che può tenere una dieta di mantenimento, io non faccio questa definizione. Lei fa una norma calorica, comunque sia fa un'alimentazione, forse un filino sotto, un filino ipocalorica, ma proprio poco per rimanere, diciamo, pulita, comunque sia con gli addominali che si vedono, però senza eccedere, quindi non fa delle... Senza avere fame. Senza avere fame, giustamente. Perché passi tutti i miei sgari senza problemi. Esatto, e quindi diciamo, lei ha trovato, poi nell'ultimo periodo abbiamo trovato un giusto equilibrio tra una buona alimentazione e che però comunque sia le continui a dare socialità, perché giustamente a una ragazza della società non puoi privare di andare in discoteca con le sue amiche, di uscire il pomeriggio se deve fare delle cose, di fare attività fisica, avere l'energia sufficiente per farla, di studiare, perché comunque sia ci vuole energia anche per studiare, quindi con una dieta giusta lei riesce a fare tutte queste cose, però a rimanere in forma e a vedere i miglioramenti. Certo. D'accordo o no? Segui i tuoi figli in palestra? No, cioè l'allenamento no. E poi noi andiamo in palestre diverse, vero? Sì, sì, noi andiamo in palestre diverse. Quindi noi non ci vediamo quando ci alleniamo, ci vedete solo voi nei video assieme, per chi e lei non ci siamo mai allenati insieme se non per i video, perché lei va in una palestra, va in un'altra. Sì, noi vanno a orari differenti. Quindi noi siamo due entità completamente separate, cioè ci siamo uniti soltanto per fare i video per voi, come questo qui e i due video precedenti. Esatto. E tre pregi e tre difetti uno dell'altra? Partito, vai. Allora, un difetto che per me è legato alla sua età giovane è che è irruente e vuole tutto subito. Ma questo poi è un problema che comunque sia continua ad avere anche alla mia età, quindi posso dire che è un difetto ma comunque comune. Ok. Poi? Ci sono tre difetti e sono tanti? Ci sono un po' troppi tre difetti, dai. Fermiamoci a uno o due. Il pregio che è molto volitiva, quindi diciamo che quando vuole ottenere qualcosa lo fa, ma in tutti i campi e questo sicuramente è quello che sia nella vita di tutti i giorni che anche nell'attività fisica ti fa ottenere i risultati. Quindi il fatto di essere determinata ad ottenerlo, questo sicuramente è molto vantaggioso. Poi dopo basta, io ho detto un pregio, un difetto. Solo, amore. Un pregio, vai un altro pregio. Un altro difetto. Amore, ma non può avere, di fatti vorrei ma avere. Sei un po' ingenua. Sì, è un po' ingenua, è un po' credulona, perché appunto si crede un po' a tutte le cose e poi dopo quando glielo fanno capire, dopo si rende conto che erano le stronzate, no? Lui, allora, partiamo dai difetti. Sì, ci sono dei momenti in cui magari lui sta facendo le sue cose e tu non gli puoi parlare perché lui non ti ascolta, cioè lui magari è lì, guarda il telefono e cioè tu puoi aver fatto anche il discorso di un discorso di dieci minuti pensando che lui ti sta ascoltando e fa, in realtà non ti sta ascoltando minimamente. Vivi un po' nel mio mondo ogni tanto. Sì, a volte. E poi per certe cose sei un po' egoista, ma è giusto. Questo sport tende ad essere un po' un sport egoista, sì. Guardi, è molto buono, molto generoso. Sei il mio papà, il cucciolo. Allora, sono finite. Siamo stati anche troppo veloci. Siamo stati veloci, no? Abbiamo risposto un po' troppo velocemente. Abbiamo risposto velocemente? Sì. Almeno le persone lo guardano con più intensità questo video. Con più intensità? Allora, abbiamo risposto alle domande in maniera veramente molto rapida. Vuoi domandare di vedere quanto tempo durava? Perché lei, no, no, possiamo anche vedere adesso. Quindi, allora, abbiamo risposto a 20 domande in tipo 5 minuti. No, avremmo risposto in 15 minuti, 10 minuti. Sì, un video che teoricamente poteva essere lungo 40 minuti, l'abbiamo ridotto a 15 minuti. Be happy. E quindi, allora, le domande abbiamo risposto alla maggioranza delle... No, non alla maggioranza. Di più della maggioranza. No, di meno della maggioranza. Molto di meno. Eh, ma perché molti si ripetevano, quindi non volevamo essere monoti. Quindi abbiamo risposto a 20 domande che secondo me riassumevano comunque la maggioranza, diciamo, delle vostre richieste. Sperando di essere stati chiari nelle nostre spiegazioni, anche se eravamo molto... Lei, avete visto, è molto veloce nel girare le domande, subito molto sbrigativa. Quindi abbiamo riassumevano... Se avete dei consigli su che video proporci, scrivetelo nei commenti, così li facciamo. Esatto. In 10 minuti, però. Esatto, perché dopo la sassuoglia dell'attenzione, poi si deve andare a allenare adesso, quindi... Esatto, no, non è per quello, però comunque, dai, 15 minuti a sedere ce la posso fare. Esatto, quindi lei praticamente sta creando e preparando un video che vada bene per lei, che guarderebbe lei fondamentalmente. Sì, sì, di 15 minuti ce la fai, 20 massimo. E quindi torna il discorso che, visto che non vogliamo, diciamo, annoiarvi con delle cose che abbiamo già fatto, proponeteci dei video che potremmo fare assieme. Certo. In modo tale che a noi fa piacere farli, perché comunque sia ci divertiamo ed è anche un'occasione per stare assieme, perché comunque sia nella quotidianità e nella freneticità, si dice? Sì? Sì? Sì, frenesia della... Frenesia. Frenesia della quotidianità è normale che ci si veda poco, quindi questa è anche un'occasione di stare assieme, perché ovviamente dobbiamo pianificare, in base anche agli impegni di ognuno di noi due, quando vederci per fare questo. Quindi oggi abbiamo detto, era già 3-4 giorni, anzi forse una settimana, che abbiamo detto questo giorno qui, a quest'ora qui ci vediamo. E quindi è importante che per così... E vediamo lo stesso. Sì, però diciamo di sfuggita, perché comunque sì, abbiamo tutti e due impegni e quindi di conseguenza poco, non tantissimo tempo per stare assieme. Quindi diteci che video vi possono piacere, se il video vi è piaciuto mettete un like. Iscrivetevi al mio canale. Coaching online. Esatto, guardate il coaching online, assolutamente. E scriveteci che video fare. E scriveteci che video fare. Poi, se avete bisogno di integratori, andate sul sito della... Vita Strong. E quindi qui abbiamo fatto la marchettara finita, quindi abbiamo proprio chiuso con tutti i marchettari del mondo. E se c'è qualcosa di vostro interesse, utilizzate il mio codice sconto al donna69 per acquistare. Quindi, concluso questo... Mettilo qui questa volta, Lorenzo. Esatto, mettilo qui il codice al donna69. Mio lo mette sotto e scrive no. Esatto. Sto stronzo. E quindi mettetelo qui, mettilo qui il codice sconto. Ovviamente dopo questa marchettara, praticamente i miei follower di mezzerano, perché dicono questi due stronzi sono qui soltanto per qua, ma non è assolutamente vero. Perché lo stiamo facendo soltanto perché ci fa un gian piacere e ci divertiamo. Assolutamente. Quindi, vi salutiamo. Alla prossima, aspettiamo i vostri consigli e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ciao. Provo a andare a vedere quanto è venuto. 20 minuti. Avvenisci. Perfetto. Yeah. Yeah. Yeah.